Voteremo no a questo provvedimento, come già sostenuto dall'onorevole Colucci e come argomenterà più avanti anche l'onorevole Sgarbi. Innanzitutto permettetemi due citazioni. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. La seconda, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Sono, come tutti ben sapete, due articoli della nostra Costituzione, il 15 e il 27. Ora, a fronte di questi due principi, noi autorizziamo con questo decreto la praticamente totale e assoluta libertà di utilizzo di una tecnologia, il Trojan, che oltre all'attivazione del microfono sui cellulari permette, per essere molto chiari, captare tutto il traffico dati in arrivo, mettere in funzione la webcamera permettendo di capire immagini, perquisire l'hard disk, decifrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera collegata al sistema, sfuggire agli antivirus in commercio. Per essere molto chiari vorrei fare un esempio dell'applicazione della nuova norma, tenendo conto che tutto questo sarà effettuato da 148 aziende private, di cui non sappiamo neanche la proprietà e che cosa faranno di questi dati. Allora il report è quello ipotetico in cui un pubblico ufficiale, un professore, viene sottoposto a indagini. Come indaghiamo un professore? Di che cosa ci stupiamo? In piena emergenza sanitaria stanno indagando i medici che stanno combattendo giorno dopo giorno contro il coronavirus nell'ospedale di Codogno. Allora, cosa ha commesso questo professore? Niente, viene sospettato di regalare voti e diplomi. Gli mettono il Trojan, veniamo a sapere tutto, cosa mangia a colazione, se appena si è alzato o ha litigato o meno con la moglie, dei rapporti con la quale abbiamo saputo tutto quanto successo nelle ore precedenti. Se attiviamo addirittura la telecamera mentre è in classe potremo anche vedere in diretta le facce di tutti i suoi studenti. Sapremo dei litigi con i colleghi durante gli scrutini, se come fa l'attività sindacale, politica, quali libri compra. E tutto questo potremmo tranquillamente leggerlo sui giornali. Non ditemi che sto esagerando, è già successo. Tutto questo si chiama intercettazione, si chiama spionaggio. Andate a rivedere il film Le vite degli altri e vi apparirà evidente che quello che sto dicendo, anzi, gli spioni della Repubblica Democratica tedesca al confronto vi sembreranno dei dilettanti. Io so benissimo che di fronte a certi pericoli, penso alla malavita organizzata e a tutte le conseguenze della sua rete criminale, droga, riciclaggio, invasioni del mondo economico e finanziario, penso anche al terrorismo. So che per combattere questi gravi fenomeni ognuno di noi deve accettare di rinunciare ad una parte della propria libertà. Ma davvero pensiamo, pensate chi ci sta ascoltando al professore, che possiamo rinunciare alla libertà di fronte a un'indagine, per esempio, come un'iposisi di reato come l'abuso d'ufficio? I garantisti del Partito Democratico, di Taglia Viva, di Liberi Uguali, pensano veramente che il Governo di cui fanno parte meriti la loro fiducia per coartare la libertà degli italiani? Noi no. Noi continueremo ad opporci perché questa è una battaglia di civiltà, non è una battaglia di una parte politica contro l'altra, è la battaglia di chi vuole difendere i diritti costituzionali garantiti alla libertà della persona e perché noi non vogliamo che si arrivi a realizzare quello che denunciava Thomas Eliot nei Corri della Rocca. Sognano sistemi talmente perfetti in cui nessuno avrebbe più bisogno di essere buoni. Quello che abbiamo davanti con questo provvedimento è esattamente questo. Non stiamo parlando dell'utilizzo, e concludo, signor Presidente, di strumenti moderni per combattere criminalità, mafia, terrorismo organizzato. Abbiamo allargato questo strumento mettendo tutto nelle mani dei giudici a reati contro la pubblica amministrazione che vanno dall'abuso d'ufficio agli esempi vetti prima. Si può rinunciare alla libertà ma solo a fronte di reati gravi. Non si può accettare di rinunciare alla difesa della dignità della persona. Per questo votiamo no.